buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di assegnazioni provvisorie i tempi ormai sarebbero maturi per un accordo per il contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità annuale domanda numero uno quando sarà possibile fare la domanda di assegnazioni provvisorie 2022 2023 allora il 12 maggio si è tenuto in remoto il primo incontro tra il ministero dell'istruzione e i sindacati della scuola per il rinnovo del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità annuali utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2022 2025 a distanza di un mese dal primo incontro interlocutorio la trattativa sembra essersi arenata per tale motivo i sindacati hanno chiesto proprio il 14 giugno con urgenza la ripresa degli incontri per poter affrontare i nodi politici delle novità legislative in materia di mobilità e quindi anche di mobilità annuale ci riferiamo in particolar modo al problema dei vincoli quindi non prima del mese di luglio sarà possibile presentare istanza per le assegnazioni provvisorie domanda numero 2 chi e per quali motivi potrà presentare istanze di assegnazione provvisoria 2022 2023 allora per poter rispondere a questa domanda servirebbe proprio l'accordo sindacale cioè attendere il ccni 2022 2025 per cui per adesso i docenti vincolati non potranno fare domande di assegnazione provvisoria chi non ha vincolo invece potrà presentare istanze i motivi per chiedere l'assegnazione provvisoria sono quattro il ricongiungimento ai figli o affidati di minorità compredimento giudiziario il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente i vi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica le gravi esigenze di salute del richiedente comprovate dai doni a certificazione sanitaria e in ultimo il ricongiungimento al genitore domanda numero 3 il docente coniugato può chiedere di ricongiungersi al figlio o al genitore che risiedono in provincia diversa sì se per esempio il docente x risiede a barese con il coniuge vuole ricongiungersi con il genitore che risiede a reggio calabria potrà fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungersi con il genitore proprio a reggio calabria speriamo che la risposta a queste domande possono essere utili ai docenti che dovranno fare mobilità annuale e vi ringraziamo seguiteci ancora sui nostri canali social sul sito www.tecnicielascuola.it parleremo non solo di mobilità annuale e di assegnazione provvisoria ma anche di molto altro arrivederci grazie a tutti